Il Manfredonia deve sudare le proverbiali sette camice per avere la meglio di un Real City combattivo e maidomo. Al Miramare finisce 2-1 per la compagine allenata da Rufini che con questi tre punti mantiene la testa della classifica e l'imbattibilità stagionale. Tanti applausi e zero punti invece per il team di Lopolito che resta fanalino di coda. Partono benissimo gli ospiti che al tredicesimo trovano il vantaggio. Perfetto, traversone di Ruggeri e intervento in spaccata di Pelosi che batte Leuci. 0-1 Real City e Sipontini in evidente difficoltà. Primi segnali di reazione dei padroni di casa con la conclusione al ventiquattresimo di Trotta. Lanzetta si fa trovare pronto. Sono sempre gli ospiti però a rendersi più pericolosi un minuto più tardi con Stango che calcia dal limite e manda di pochissimo a lato. Al trentunesimo ancora Real City pericoloso con la conclusione centrale di De Battista. Leuci blocca in due tempi. Passano appena tre minuti e il Manfredonia trova il pari. Sugli sviluppi di una punizione la sfera termina sui piedi di Coronese che con una violenta conclusione al volo insacca l'1-1 e rimette in piedi una gara davvero complicata per i Sipontini. L'ultima occasione del primo tempo la crea Cicerelli che al quarantaduesimo manda al lato da buona posizione. Parità all'intervallo. Nella ripresa Real City subito pericoloso con il sinistro di De Battista che termina di poco a lato ma il Manfredonia con il passare dei minuti diventa padrone del campo. Al cinquantaquattresimo tiro dal limite di Cicerelli con deviazione. Palla di poco alta sopra la traversa. Al sessantaduesimo Trotta entra in aria e calcia giro non centrando di poco il bersaglio. Al sessantottesimo pericoloso il neo entrato morra. Il suo sinistro rasoterra è preda di Lanzetta. Il Manfredonia spinge e al settantesimo trova il meritato vantaggio. Trotta parte in velocità verso la porta e con un preciso diagonale non lascia scampo all'estremo ospite. Due a uno per i Sipontini e centesima rete con la maglia del Manfredonia per Trotta. I Real City dopo tanti sforzi non riesce a reagire. Al settantasettesimo i padroni di casa vanno vicinissimi al Tris con il palo colpito ancora da Trotta. Nel finale non accade più nulla con gli ospiti che restano anche in dieci per l'espulsione di Galullo. Vince due a uno il Manfredonia che domenica prossima osserverà un turno di riposo. Il Real City invece ospiterà il Barletta che potrebbe conquistare la vetta proprio ai danni dei Sipontini.